Anno 1938, Adolf Hitler, sì, quell'Adolf Hitler, viene in visita proprio qui, a Napoli. Arrivano sui marciapiedi tutti i napoletani, il popolo si riversa e aspetta il Führer che sfili. La tensione è palpabile, un sentimento misto fra imbarazzo, paura e curiosità si fa avanti. Il Führer saluta tutti quanti dalla sua autoscoperta con il classico saluto nazista, braccio e mano tesa. A un certo punto, tra il pubblico, una voce anonima si fa avanti, rompe il silenzio e pronuncia le seguenti parole che, tradotto dall'antico latino, significa sta controllando se piove. Ebbene, una battuta ingenua, che in realtà in quel momento storico aveva un potere enorme, un salto, un salto dal contesto, un salto in alto, uno jump, appunto, che aveva sancito che il totalitarismo non avrebbe mai e poi mai conquistato il cuore dei napoletani. Ebbene, questa è la forza dell'umorismo, che riesce a prendere un nemico pauroso e lo trasforma in un personaggio piccolo piccolo. E quella torta in faccia scagliata verso il volto di un nobile che, per citare Totò, lo va a livellare, lo mette sulla stessa linea del resto del genere umano. E quella buccia di banana che fa scivolare una donna troppo imbellettata, un uomo arrogante, e lo fa cadere per terra, nel fango. E quella storiella yiddish, che con ironia, spiega un po' di più della complessità del mondo. Ebbene, io questa cosa l'avevo intuita, l'avevo capita sin da piccolo, non per fortuna sulla mia pelle, ma non ho mai, dico mai, sottovalutato il potere dell'umorismo. Mi ha aiutato tantissime volte, mi ha aiutato a farmi accettare, ad avere nuove amicizie, ad avere fidanzate, a sposare la donna che amo, mi ha aiutato tantissimo nel mio lavoro da pubblicitario, e in quanto ateo mi ha dato anche un senso alla vita, che un senso non ce l'ha. E quindi ho iniziato a studiare l'umorismo sotto la lente della psicologia, della sociologia. Ho studiato i suoi meccanismi, la sua matematica, i suoi stilemi, ho persino studiato la gelatologia. Però non ho mai pensato che l'umorismo potesse essere anche negativo. Una risata vi seppellirà, un giorno senza riso, una giornata perduta, dicevano. Del resto l'umorismo ti fa stare bene, ti fa volere bene, ti rende sereno, ti regala momenti di intrascurabile felicità e fisiologicamente ti dà anche delle endorfine, che sono parenti dell'oppio, che ti creano euforia, che inibiscono il dolore, che poi è il motivo per cui a volte tra le corsie degli ospedali si può scorgere qualche clown, che si trovano anche tra i corridoi del Parlamento, però questa è un'altra storia. E io ho sempre a priori difeso l'umorismo. Charlie Hebdo, il black humor, qualsiasi battuta meno felice. Tutto questo in memoria della libertà di espressione. Però poi, un giorno, non tanto distante da questo, mi sono guardato allo specchio, mi sono riflesso, ho riflettuto e mi sono fatto una domanda. Posso io essere, per assurdo si intende, essere più affascinante di quello che sono? La risposta ovviamente no. Allora mi sono fatto una domanda un pochino più profonda. Può l'umorismo essere strumentalizzato con uno scopo negativo, ovvero può l'umorismo deliberatamente fare del male? Allora ho iniziato ad analizzare il lato scuro dell'umorismo, partendo dai rapporti interpersonali, passando poi attraverso il concetto di normalità nella nostra società, allargando il campo alla comunicazione di massa digitale tramite social e atterrando poi al significato della satira politica odierna. Allora partiamo dai rapporti interpersonali, quelli più intimi. Parliamo quindi di bullismo e per bullismo non intendo la violenza fisica, che se volete è quella più onesta perché è visibile, e nemmeno la violenza verbale, le parolacce che sono anonime, banali, non sono ad personam. Io parlo della violenza psicologica tramite la derisione, dove un gruppo di individui, un branco o anche un individuo singolo sceglie di attaccare un elemento vebole, oppure semplicemente perché è diverso. E questo lo fa sia per metterlo in imbarazzo, ma per sembrare una persona arguta, intelligente, simpatica e conquistare il resto del gruppo. Insomma, un vero e proprio concorso alla battuta più divertente, che per carità nella forma fa ridere, se conoscete anche il target e il contesto. E viene spesso usata sui social perché nascosti dietro un monitor si ha anche il tempo di essere creativi, di fare brainstorming e cercare la battuta più divertente che possa avere più like. Però questo ovviamente crea dei danni psicologici nella vittima, lo va a ghettizzare e la vittima si autoisola. Che se ci pensate bene, è la stessa cosa che accade a una dimensione più allargata con le barzellette. Intendo ovviamente le barzellette politicamente scorrette, che se la prendono con un determinato gruppo sociale, che sembrano essere innocenti, ma in realtà sono pericolosissime. Per intenderci, in una società, come quella italiana per esempio, si forma una cultura che ti dice cosa è giusto e cosa è sbagliato. Si crea quindi una specie di perimetro dal cui interno c'è la normalità. Nel momento in cui nasce un filone umoristico, quel gruppo sociale viene culturalmente defenestrato dal perimetro di normalità. E quindi nascono le barzellette sui omosessuali, nascono le barzellette che se la prendono con chi ha il colore diverso della pelle, sulle donne, su un culto religioso in particolare, sui vegani. Oddio, magari sui vegani hanno anche ragione. Però fondamentalmente che cosa succede? Si crea una sorta di monito per cui se tu vuoi essere un cittadino rispettabile, se vuoi essere parte della normalità, non devi essere oggetto di derisione. E quindi magari l'omosessuale nasconde la sua reale e normale natura. Oppure chi ha il colore della pelle diverso incomincia ad avere paura perché oltre ad essere oggetto di derisione, il passaggio alla violenza verbale, alla violenza fisica è molto breve. E se vogliamo ingrandire la nostra ricerca sulla comunicazione di massa tramite il digital e i social c'è un fenomeno, un fenomeno a tenere presente, l'alternative right, che è la destra alternativa americana che si è sviluppata negli ultimi anni, che è accomunata più che altro da quello che odia più che da quello che ama. Ed è un coacervo di tendenzialmente maschi che sono maschilisti, misogini, maschi beta, nazionalisti, xenofobi, islamofobici e pare addirittura qualcuno sia juventino. E che cosa fanno queste persone? Si incontrano online e discutono oltre alla loro ideologia hanno anche un particolare modo di scherzare che sono i meme politicamente scorretti che per questo motivo secondo il viral marketing diventano virali. E in un mondo dove non ci si informa più tramite i quotidiani, non si leggono sempre meno libri e ci si informa più sul digital, sul social, pare, e dico pare, che questi meme umoristici più le fake news abbiano contribuito in maniera importante alle ultime elezioni americane. Fenomeno dell'hard right che è arrivato anche in Europa, è arrivato in Francia, in Germania e in Italia ci sono i primi germi che siano consapevoli o involontari. E l'Italia, come altre nazioni democratiche, pare che abbia perso il significato originario della satira politica. Il significato che nasceva da Jean-Baptiste Sainteul, che era un commediografo e poeta latinista francese, che aveva coniato ai tempi la locuzione Castigat ridendo mores, ovvero che la satira, la satira politica, è in grado di correggere i costumi tramite il riso. E perché l'Italia ha un po' perso questo concetto? Ve lo spiego meglio. Esistono nella nostra società delle regole e delle convenzioni sociali e culturali che tutti noi pedissequamente seguiamo. Ci può essere però un individuo che devia, cioè viola una regola, in questo caso magari un personaggio politico, e quando arriva la satira tramite una barzelletta, una battuta, una vignetta, suscita nel popolo il riso e a sua volta dovrebbe portare al personaggio deviato umiliazione, imbarazzo, vergogna e demarginazione. A questo punto il personaggio deviato potrebbe aver capito di sbagliare e quindi tornare sulla retta via, oppure per quieto vivere fa finta e comunque ritorna sul binario, oppure potrebbe invece reiterare, continuare nel suo errore, nella sua violazione. E a questo punto è una situazione di stallo, perché magari la satira continua nei suoi confronti. Però quel personaggio può diventare addirittura simpatico al popolo, perché è umano nel suo errare. E arriviamo a un momento di accettazione, perché la verità è che la satira è vero che può farti pensare, ma non è detto che ti faccia agire. Allora forse sarebbe più giusto che la satira andasse a fustigare il popolo, che andasse in realtà a prendere quell'italiano medio che poi è lui che decide nelle urne di votare quel politico, perché è la sua realizzazione del potere, soprattutto perché lo vede, lo vede corrotto, vede quello che fa e non c'è la certezza della pena. Quindi l'umorismo è un'arma, è un'arma potentissima e in quanto arma può fare del bene come può fare del male. Dobbiamo tutti fare attenzione a quello per cui ridiamo, perché è un attimo passare dal riso, al riso ignorante, al riso amaro, al riso oscuro. Non possiamo nemmeno accettare la censura e nemmeno seguire quell'essere politicamente estremamente corretti, perché poi alla fine andiamo a negare la nostra creatività e la nostra libertà di pensiero, di espressione. Dovremmo fare un'altra cosa, dovremmo invece allenare tutti gli strumenti che ci fanno capire il perché ridiamo, ci fanno capire il contesto. Dovremmo allenare quella che io chiamo la coscienza comica, che tramite l'educazione, la cultura, l'apertura di pensiero, la consapevolezza del momento in cui viviamo, ci può permettere di ridere ancora di tutto e per questo non essere quegli stolti nella cui bocca abbonda il riso, ma possiamo essere quelle persone acculturate, quelle persone illuminate, capaci di fare quel salto. Quel salto che ci fa vedere la storia da un altro punto di vista e ci fa vedere il mondo per quello che è, una grandissima mozzarella di bufala. Grazie.